Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, trucchettino per non farmi telefonare e mettere il non disturbare, non disturbare, cosa senti? Si chiamate da nessuno, eccolo qua, il non disturbare dell'iPhone, questa è una cosa carina, che mi permette di rimanere in onda senza rischiare, dato che sono in 3G, perché sono in macchina, di farmi bloccare questa chiacchierata con voi, un saluto a tutti gli amici di Spreaker, applicazione che amo sempre di più, in questo mondo che sta cambiando soprattutto dal punto di vista della musica, questo è il tema di questo podcast, di questa diretta, se per caso siete in diretta, perché vorrei parlare di Spotify, se sapete già cos'è, lo state già usando, non credo che vi debba dire niente, ma può darsi che l'avete solo sentito nominare o che non ne avete nemmeno sentito parlare, che non lo state usando, Spotify è un servizio di musica in streaming, a dire la verità non troppo diverso da Dezel, che già era presente in Italia, che funziona allo stesso modo, per quello che ho potuto vedere, probabilmente è meno sostenuto dalla stampa, perché il lancio di Spotify ha fatto molto più scalpore, mentre Dezel sembra uguale, comunque parliamo di Spotify, che cos'è? niente, è un, per farla molto semplice, è una sorta di iTunes, nel senso, è un programma che si scarica sul computer, nella versione gratuita, è un programma che appare molto simile ad iTunes, con l'unica differenza sostanziale che su iTunes bisogna acquistarla la musica per ascoltarla, oppure caricare su iTunes i brani nostri che abbiamo sul nostro computer, mentre su Spotify bisogna solamente ascoltarla e la si ascolta in maniera gratuita, in maniera gratuita, sul vostro computer. Spotify ha fatto un accordo con le principali etichette mondiali, quindi si trovano al lancio più di 20 milioni di dischi, quindi in generale si dovrebbe trovare quasi tutta la musica del mondo su Spotify e voi potrete ascoltarla quando vi pare. La cosa molto molto bella è l'enorme potenziale social, perché è collegato soprattutto a Facebook, ma anche a Twitter, forse anche a LinkedIn, non mi ricordo, comunque molto 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 legata a Facebook e quindi si può ascoltare musica e mentre l'ascolti viene scritto su Facebook che stai ascoltando quella musica, questo può anche non essere simpatico per alcuni, ma lo fa. Si può scrivere, si può vedere cosa ascoltano gli amici direttamente da Spotify, si possono fare delle playlist che poi si possono condividere e a cui i vostri amici si possono iscrivere e voi potete fare altrettanto con le playlist degli altri, cioè avere nel proprio Spotify la playlist creata da qualcun altro e quando questo la aggiorna voi ve la ritrovate aggiornata. Io l'ho fatta per esempio con le canzoni dei cartoni animati di un ragazzo che seguo, Capagrezza che saluto, che seguo su Twitter, lui ne ha fatta una dei cartoni animati che è sempre un mio pallino e quindi l'ho seguita e quando lui l'aggiornerà io me la ritroverò bella, pronta e comoda grazie a Capagrezza e grazie a Spotify che fa questo tipo di servizio. Poi potrete chiaramente scoprire altra musica nuova, eccetera, eccetera, poi le funzioni, quando una cosa funziona è facile da utilizzare e quindi tutti imparano in maniera piuttosto veloce e Spotify credo che abbia questo vantaggio. E voi direte è tutto gratis? È tutto gratis? Non del tutto, nel senso che quello che vi ho detto finora è tutto gratis a patto di ascoltare tra una canzone e l'altra, magari neanche sempre, diciamo di aver capito, uno spot pubblicitario. Esattamente come vi capita con i video di YouTube, che probabilmente danno più fastidio perché Spotify mi sembra di aver sentito che non c'è mai uno spot prima del brano, come succede su YouTube, ma se ascoltate più brani tra uno e l'altro vi mette uno spot come in radio. Quindi è veramente una figata. Ci sono versioni che si pagano, c'è una versione che si paga 4,49 mi sembra al mese, che dal mio punto di vista non è assolutamente conveniente perché a quella cifra non hai più la pubblicità, forse la qualità maggiore della musica che mi sembra sufficiente su Spotify, insomma, non vedo un gran che. A 9,49, 9,49 al mese invece c'è il gradino superiore che invece cambia, quindi hai tutto Spotify aperto, soprattutto hai Spotify sul tuo smartphone o sul tuo tablet in mobilità, quindi anche in mobilità perché altrimenti non funziona neanche sotto rete wifi questa cosa. A questo punto vuol dire avere tutta la propria musica sullo smartphone o sul tablet anche quando sei in giro. In più, con l'offline c'è quella possibilità di scaricarti il brano su Spotify, il brano non lo scarichi, viene fuori e poi te lo metti su iTunes o dove ti pare, rimane su Spotify, ma lo puoi sentire offline, quindi è esattamente come avere il proprio brano, quindi dato che è il futuro prossimissimo, io già lo faccio ma magari qualcuno non lo fa, e di avere il materiale vostro, quindi la musica, su una cloud, su una nuvola, devo dire che Spotify è esattamente quello che ci si aspetterebbe. Quindi per adesso, fino a che noi italiani non ci abitueremo a questo tipo di cose, anche solo la parte gratuita, Spotify è veramente, veramente un mostro di cambiamento, mentre che controlla se qualcuno mi ha scritto da qualche parte qui, perché sapete che c'è la chat, no? Su... Ah, 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 come si fa vedere la chat? Non mi ricordo più, ah, qua, non ci sono messaggi di chat, ok. E quindi Spotify, c'è anche Deezer, D-E-Zer, dicevo, che fa la stessa cosa, quindi tranne che Deezer non si scarica un programma sul computer, rimane sul browser, anche questo funziona sul browser, poi le stesse cifre, più o meno le stesse cose per averlo sul cellulare. Con Deezer avete 15 giorni gratuiti, quindi lo potete avere sul cellulare appena lo installate, appena vi iscrivete, con Spotify due giorni, e poi potete averne altri 30, però dovete fare una sorta, dovete collegare una carta di credito oppure pagare con Paypal, perché dovete collegare la carta di credito e quindi spendere zero per avere i primi 30 giorni e poi vi dovete ricordare di disattivarlo prima dei prossimi 30 giorni se non volete pagare i 9 euro, i 99 o i 49, che adesso non ricordo. Quindi consiglio che vi do. Piccola riflessione che faccio, sapete che chi mi conosce bene sa che ho una radio web, anbwebradio.it, che si legge anbwebradio.it, mi sono chiesto, anche mentre uso speaker, il valore di una radio oggi, anche di una radio web, radio web che ci sono da tanto tempo e che non sono mai esplose. Comincio a avere l'impressione che le radio web non esploderanno mai, almeno nella forma in cui sono adesso, perché se devo ascoltare musica, il mondo è cambiato troppo per affidarmi a una radio, anche perché su Spotify una delle funzioni che non vi ho detto, comunque poi andate a guardare, è quella di crearsi una radio, ci si può creare una radio per genere, ci si può creare una radio per i propri gusti musicali, insomma, questo è un servizio che c'è già da tanto in altre piattaforme. Comunque mi chiedo perché uno dovrebbe ascoltare una radio, sto parlando della selezione musicale, quando può ascoltare tutto quello che vuole in modi più personali. Quindi questa è una domanda che mi sto facendo e a cui dovrò dare una risposta, perché credo che sia un punto fondamentale. Chiaramente Spotify è un servizio legalissimo, è presentato il giorno dell'inizio del festival di Sanremo, quindi niente di illegale da utilizzare. Quindi se volete darmi un consiglio, ascolterei anche la vostra, credete che il mondo della radio, che la radio, come è pensata oggi, perché le radio web di oggi, compresa la mia, purtroppo lo dico, sono ancora una brutta copia delle radio tradizionali, quindi non cambia niente, l'unica differenza è che si ascoltano solo tramite il web, ma la radio è fatta ancora nello stesso modo, la cross radio vera e propria non ha ancora preso piede, non ce n'è ancora una vera e propria. E poi credo che comunque quello che conti adesso sono i contenuti, i contenuti che faccio io, che fa qualcun altro, i vostri contenuti, sono sicuramente delle cose esclusive che non trovate sullo Spotify del genere, questo voglio dire, però lo trovate per esempio sullo Springer. Il Springer è pieno di contenuti e sono i contenuti che fanno la differenza. E allora avere una radio web a poco senso, uno può fare un programma quando vuole e può farsi una radio web senza farsi una radio web. Va bene, domande e riflessioni a cui sicuramente si darà una risposta. Io vi saluto tutti, vi abbraccio fortemente amici di Springer, che siete quasi 200 e la cosa mi fa piacere e questo è un altro motivo per cui dico attenzione che il mondo sta cambiando talmente tanto che si riesce ad avere più contatti con Springer che con una radio web, in cui dovete accedere immediatamente in quel momento e quindi saluto anche tutti gli altri, quelli che capitano, perché spesso succede attraverso i social network, perché Facebook e Twitter mi postano che sono andato in diretta. Su Google Plus dovrei farlo io a mano e lo dovrei fare, perché altrimenti non arrivano le cose. Quindi saluto tutti i social e voi, vi compresi. Un abbraccio molto forte. Ciao!